E' stato rivelato il poster che ci anticipa alcune novità in arrivo nei prossimi episodi di Pokémon Sole e Luna. Terminato ufficialmente oggi in Giappone l'arco dedicato a Ultra Necrozma, è il momento di iniziare a guardare in avanti verso la Lega di Alola. Dal poster di oggi possiamo però notare grandi novità. In primis torneranno ancora una volta Misty e Brock, che, questa volta, saranno loro a spostarsi da Kanto per arrivare ad Alola da Ash. Ed è forse questa la prima volta che una promessa del genere viene mantenuta all'interno dell'anime. Tra i personaggi non possiamo non notare Howe, il nostro rivale dei videogiochi di Pokémon di settima generazione, che finalmente farà la sua apparizione anche nella serie animata. Tra i Pokémon invece spiccano un Dartrix ed un Eevee, con un'acconciatura che viene ovviamente dai nuovi titoli di Pokémon Let's Go. Non è chiaro se Dartrix sia l'evoluzione del Rowlet di Ash, oppure un Pokémon di Howe, né tantomeno se Eevee sia stato catturato proprio dal nostro protagonista. Insomma, ci attendono episodi davvero interessanti e appena riceveremo maggiori informazioni, come al solito, ve le daremo il più velocemente possibile. Vi consiglio di seguirci sul nostro profilo Instagram per non perdervi nessuna novità. E vi ricordo che questa sera saremo live dalle 23.20 per commentare insieme il nuovo Nintendo Direct. E noi invece ci vediamo ad un prossimo video. Ciao allenatori! Ciao!